Buonasera! Buonasera e benvenuti a tutti in questa splendida location. Iniziamo subito con un applauso fortissimo. Corale! Ok, bellissimo. Allora, la Paraiso Sanzero Academy stasera è orgogliosa di presentarvi in questa serata slash spettacolo di fine anno. Si esibiranno per voi inizialmente i bambini del bimbi corso accompagnati dallo staff della Paraiso Sanzero Academy con la partecipazione della maestra Marileca Raimondo. Le coreografie sono della maestra Marileca Raimondo e questo è un omaggio al re del popo, Marileca Raimondo. Adesso, con un altro applauso fortissimo! Molto più forte, ragazzi! Applauso gratis! Ok, benissimo. Ok, benissimo. No, ok, benissimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.